Il Mantua Village di Bagnolo San Vito chiude la stagione estiva con un grande appuntamento tra musica e parole. Elio racconta Elio. Domenica 3 settembre alle 19 si terrà infatti lo spettacolo evento in cui il celebre cantautore milanese converserà con il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda. L'ecletico artista racconterà la sua carriera e suonerà accompagnato da una band di giovani talenti sulle musiche di Enzo Iannacci. Lo show in due parti prevede infatti un'intervista e poi il concerto tratto dallo spettacolo Ci vuole orecchio. Tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, bisogna avere orecchio. È un evento di cui siamo particolarmente orgogliosi poiché riteniamo che Elio sia in questo momento il personaggio perfetto per il nostro village perché rappresenta la cultura, rappresenta l'arte, è un'artista a 360 gradi, è un cantautore, si è occupato di musica leggera, di televisione, è diplomato al conservatorio quindi comunque ha interpretato anche brani classici. È veramente un personaggio eclettico che proponiamo con grande orgoglio, come dicevo. L'ingresso all'evento è gratuito fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione. Sino alle 23 sarà poi possibile fare shopping nei negozi del village eccezionalmente aperti con orario prolungato e cenare nei ristoranti del village che per l'occasione proporranno menu speciali. Una grande serata dunque che chiude un'estate molto positiva al Mantua Village. È stato un'estate importante dal punto di vista dei risultati, dei numeri, delle presenze, delle vendite e è stata anche una grande soddisfazione dal punto di vista eventistico poiché abbiamo proposto le Summer Night che erano un format nuovo, una situazione nuova che non avevamo mai sperimentato e sono andate molto bene e sono certa che anche Elio confermerà l'andamento degli eventi precedenti. Grazie a tutti!